la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, bentrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine del mattino partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale vediamo il titolo di apertura Italia, Portofranco del killer preso il complice a Berlino capodanno blindato 700 agenti a Napoli il terrorista Amri per 4 mesi è stato a Latina dopo aver lasciato il CIE di Caltanisetta con un decreto di espulsione mai eseguito però e poi vediamo il focus con gli articoli correlati permessi soggiorno la pista dei falsi tra Sesto e la Sicilia ancora l'analisi i criminali che diventano terroristi e poi nelle inchieste 2017 sull'asse russiacino il fattore Trump andiamo avanti sempre centro pagina lo scandalo doping la Russia ammette ma non cambia e poi le parole di Papa Bergoglio sulla famiglia sposi per sempre se per il Papa ci vuole coraggio andiamo avanti di taglio alto la cronaca il caso della palazzina crollata a Roma vediamo crolla palazzo vicino a Roma madre bimba tra le macerie e l'esplosione ad acilia per una fuga di gas estratti vivi due anziani piccola aurora C6 la speranza si fa silenzio questo il racconto con la madre e la piccola che non sono state recuperate e andiamo avanti ancora cronaca ucciso dalla febbre a 18 anni scatta l'allarme meningite la tragedia a Castellammare oggi vertice in regione 30 casi nel 2016 l'esperto meno paura e più vaccini così si ferma la malattia queste le notizie di prima pagina ma andiamo di taglio basso vediamo come chiude questa queste quali sono le altre notizie più importanti di taglio basso per l'economia a Montepaschi di Siene i paletti della Germania Berlino a BCE e Unione Europea assicurino che Roma rispetti le norme poi intanto a Salerno e Bufera sugli eventi di Natale l'inchiesta dell'antimafia 10 indagati anche gli assessori questa è la prima pagina andiamo avanti sempre sfogliando le pagine del quotidiano il mattino vediamo alcune notizie di primo piano parliamo del rapporto dell'Inps vediamo i dati Inps 2017 in rosso coltivatori e artigiani affossano il bilancio occupati crescita nel terzo trimestre ma tra i giovani la crisi però non arretra e poi vediamo lo schema per quanto riguarda il flash realizzato sui lavoratori dall'Inps con occupati 22 milioni 775 mila e poi insomma anche i dati dei disoccupati invece sono 2 milioni 987 mila gli inattivi quindi che tra i 15 e i 64 anni sono 13 milioni 618 mila questi i dati nel rapporto Inps per quanto riguarda questo anno andiamo avanti andiamo nelle pagine successive sempre per quanto riguarda il mattino vediamo che siamo in attesa del decreto mille proroghe vediamo il titolo scontro sulle popolari in forse il rinvio dell'obbligo di S.P.A. oggi il decreto sposta scadenze per i rifiuti slitta ancora il sistema Sistri sono salvi 40 mila co-co-code la pubblica amministrazione i magistrati settantenni potranno lavorare un anno in più il sistema di rilevazione dei rifiuti Sistri viene rinviato per la quarta volta a me ma tra le proroghe che sarebbero necessarie ce n'è una che il governo non vorrebbe fare quella per rinviare di un anno la trasformazione la scadenza è fissata in primo tempo al 27 dicembre ed è stata congelata dal Consiglio di Stato fino al prossimo 12 gennaio delle banche popolari in S.P.A. la norma è la stessa della scorsa manovra nel decreto banche fu bloccata da Erenziani con in testa l'attuale sottosegretaria Maria Elena Boschi e potrebbe non entrare neppure nel mille proroghe vediamo il Gentiloni oggi guiderà il Consiglio dei Ministri che ha all'ordine del giorno la nomina dei sottosegretari e il varo del decreto mille proroghe vediamo nei decreti per quanto riguarda gli statali salvataggio in arrivo per 40.000 precari con contratti in scadenza banche popolari gli istituti di credito dovrebbero abbandonare la forma cooperativa per passare ad S.P.A. potrebbe esserci la proroga e poi il ciclo di rifiuti il sistema di tracciabilità resta in naftalina sanzioni sospese per il decreto Sissi e poi magistrati scatta la deroga al limite di 70 anni per la pensione l'Associazione Nazionale Magistrati è favorevole andiamo avanti per quanto riguarda la funzione pubblica la CGL chiede una deroga per i contratti a termine la riforma e il testo unico della Madia sul pubblico l'impiego è atteso per febbraio questi gli impegni del Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi ora lasciamo le pagine del Mattino Nazionale per spostarci invece sul Mattino di Salerno partiamo dalla prima pagina parliamo in apertura dello scandalo che ha interessato i festeggiamenti di Natale a Salerno con l'inchiesta aperta da parte della Procura vediamo il titolo inchiesta e lite sugli eventi di Natale l'ombra dei clan sugli appalti 10 indagati dall'antimafia sotto accusa anche assessori vecchi e nuovi terremoti dopo lo stop ai mercatini scontro in consiglio vicenda oscura e gli operatori protestano paghiamo solo noi andiamo avanti la battaglia chiusura dei gazebo pronto il ricorso al Tar poi per quanto riguarda invece la politica in questo caso ci spostiamo di fondo è in assemblea e in assemblea in marcia indietro sulla variante maggioranza in grave pericolo in grande difficoltà a Palazzo di Città consiglieri spaccati sulle due varianti da approvare in aula si litiga pure sulle canne fumarie e il gruppo misto e poi la salute feste con il virus vaccini e ricoveri record al ruggi restiamo di taglio alto ci spostiamo di spalla nel voto di scambio nel milione dei PM la cena di De Luca con le imprese della sanità hanno acquisito l'elenco degli invitati compresa la loro disposizione a tavola dal momento che i posti a sedere erano rigorosamente numerati hanno chiesto informazioni sull'organizzazione dell'evento e sui vari intermediari oltre ovviamente su chi abbia pagato il conto della serata gadget compresi quindi un nuovo filone di inchiesta per quanto riguarda il caso del referendum cambiamo argomento passiamo allo sport nella fotonotizia l'intervista a Fabiani furia a Fabiani bassa cali di concentrazione per il mercato Coda e Donnarumma restano qui restiamo a centro pagina cambiamo argomento street control è stancata 20.000 multe in 5 mesi con il sistema high tech impennata di sanzioni per divieto di sosta automobilisti indisciplinati raffica di contravvenzioni in centro ma risultati più modesti in periferia e per quanto riguarda la viabilità riapre la cilentana taglio del nastro alla presenza del governatore questa è la prima pagina queste le principali notizie ora andiamo proprio sulla pagina sulle notizie di primo piano parliamo del caso a Salerno per quanto riguarda i mercatini e l'inchiesta aperta dalla procura sui festeggiamenti natalizi nel centro capofila di provincia vediamo l'inchiesta terremoto sugli eventi di Natale dieci indagati atti all'antimafia anche alcuni assessori sono finiti nel mirino l'ombra dei clan sugli appalti il punto documenti acquisiti al comune dai magistrati l'indagine però non riguarda luci d'artista estorsioni giunta municipale camorre appalti sono i quattro punti cardini all'interno della quale si sviluppa la nuova inchiesta dell'antimafia sull'organizzazione degli eventi natalizi a Salerno in particolare dei mercatini un'inchiesta che è culminata l'altro giorno con il decreto di sequestro di una serie di atti amministrativi a firma dei sostituti procuratori Vincenzo Montemurro e Marco Silvio e Marco Silvio Guardiello andiamo di taglio basso capodanno con venditti e laggerini ecco il super palco piazza Mendola già off limits tour in città prima dello show per il cantautore e l'attrice un paragone un politico del Lazio a Salerno fanno il botto qui a Roma San Silvestro in Sordina ricordiamo che a Roma la neo eletta sindaca aveva anche disposto lo stop ai botti di capodanno ma è arrivata la decisione del Tar che ha sospeso l'ordinanza lasciamo il tema festeggiamenti capodanno e passiamo ora invece su una notizia che interessa la parte sud della provincia di Salerno in particolare parliamo di viabilità perché è pronta al taglio del nastro la Cilentana dopo i lavori di messa in sicurezza vediamo il titolo Cilentana dopo tre anni taglio del nastro con De Luca stamattina alle 10 l'inaugurazione della strada dei turisti alle 12 via libera la circolazione i tecnici della provincia hanno redatto il progetto finanziato con fondi dell'Unione Europea Brindisi anticipato stamattina per la riapertura della Cilentana tra le uscite di Agropoli Sud e Prignano Cilento perché dopo quasi tre anni la principale strada di collegamento da e per il Cilento finalmente sarà regolarmente riaperta al traffico veicolare lasciamo anche questa pagina andiamo sulle pagine dedicate alle notizie provenienti dalla parte sud della provincia di Salerno non parliamo soltanto di viabilità andiamo a Vibbonati vediamo il titolo no ai migranti brusco dal prefetto il sindaco il sindaco porterà all'incontro proposte timori sull'accoglienza la CGL si ha scelte condivise ma non temete per il turismo a Lampedusa è in aumento vediamo il sindaco Franco Brusco in attesa di un incontro con il prefetto di Salerno per un confronto sull'accoglienza di immigrati faccia a faccia è previsto lunedì prossimo in attesa di una conferma dagli uffici del governo centrale dove si farà portavoce delle proposte avanzate dal comitato formato da commercianti imprenditori turistici e consiglieri comunali chiedono che l'accoglienza sia integrata e governata da un programma di inclusione sociale condiviso con istituzioni e associazioni locali e che non avvenga in strutture ricettive per evitare ripercussioni sul turismo se fosse vero spiega Lampedusa dovrebbe essere in seria difficoltà invece le sue strutture alberghiere non riscontrano crisi anzi se si sia ad un incremento annuale considerevole invito il comune di Vibonati a rivedere la sua posizione queste le parole del segretario della CGL di Salerno in merito alla vicenda e andiamo avanti sempre su questa pagina Capaccio Pestum torna il giudice di pace Vosa una riconquista l'ufficio riaprirà il 2 gennaio e con questa pagina del quotidiano noi il mattino ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi Bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa che apriamo con le pagine della città vediamo il titolo di apertura anche per la città come per il mattino di Salerno si parla della nuova inchiesta che ha coinvolto anche il comune di Salerno parliamo dei festeggiamenti natalizi in particolare sotto la lente di ingrandimento delle perlendagini i mercatini e vediamo il titolo mercatini natalizi la battaglia passa in tribunale il comune di Salerno chiede danni ma è scontro commercianti divisi sulla chiusura degli stand rischia di finire in tribunale il passiccio dei mercatini natalizi torneremo su questo tema nelle pagine successive andiamo avanti a Galizzano la chiesa di Torrione non piace ma si farà mentre per lo sport restiamo sempre di fondo la Salernitana la speranza e coda summit con i tifosi andiamo avanti andiamo nelle sempre su su questa prima pagina vediamo l'inchiesta gli eccessi della vigilia alcol ai ragazzini sotto accusa finiscono i bar il gruppo Logos chiede il rispetto delle regole occorre verificare chi è maggiorenne questo in vista del capodanno anche a Salerno andiamo avanti a Cava dei Tireni obiettivo Pucchi il sindaco Servalli in primavera saremo pronti le notizie di spalla occupazione i dati dell'Inps cresce il lavoro ma non per tutti i dati negativi ancora per i giovani lo abbiamo visto anche dalle pagine del mattino e poi il sindacato i voucher usati per aggirare le norme stessa denuncia di taglio basso la cultura e i grandi artigiani dei nostri presepi un artigiano di Rocca d'Aspide Franco Grippo per costruire i presepi ad opera la pietra estratta dalle cave in località Scanno poco fuori dal centro abitato e poi gli spettacoli nelle grotte i cattivi diventano protagonisti questo per quanto riguarda l'evento in programma nelle grotte di Pertosa Aoletta con lo spettacolo Cattivo Natale questa è la prima pagina del quotidiano la città restiamo su questo quotidiano e andiamo ora sulle pagine interne in primo piano si parla del caso che ha coinvolto i festeggiamenti natalizi a Salerno per quanto riguarda l'inchiesta della procura vediamo il titolo la guerra dei mercatini finisce in tribunale l'amministrazione è pronta a chiedere i danni a Buongiorno Italia e oggi a Palazzo di Città la riunione della commissione trasparenza rischia di finire davanti a un giudice la questione relativa alla revoca dell'appalto a Buongiorno Italia per la realizzazione dei mercatini di Natale questione che intanto è stata già al centro di un'ampia discussione nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto ieri mattina quanto accaduto infatti è un piatto troppo ghiotto per un'opposizione per non aprire un'accesa discussione e poi andiamo avanti parliamo sempre dei festeggiamenti natalizi ma ci spostiamo a Roma vediamo che quest'anno insomma Natale vede il Natale vede particolarmente coinvolti i tribunali perché c'è la decisione del Tar che sospende l'ordinanza del sindaco Raggi a Roma che aveva emanato un'ordinanza che aveva emanato nei giorni scorsi per impedire l'utilizzo di botti a Capodanno e anche nei giorni prima e subito successivi e vediamo che arriva quindi poi la decisione del Tar Botti il Tar boccia la Raggi nella capitale sì ai fuochi il tribunale amministrativo accoglie il ricorso dei produttori nulla l'ordinanza dal comune ma è informata la prefettura lavoro serrato sui debiti fuori bilancio questi i nodi per quanto riguarda la politica capitolina e poi andiamo avanti invece parliamo del sisma che ha colpito le regioni del centro Italia sisma intesa sugli appalti fuori mafie e corrotti siglato il patto per evitare infiltrazioni l'obiettivo come dice il ministro dell'interno Marco Minniti e evitare infiltrazioni e dunque dare agli italiani la sicurezza che i soldi stanziati saranno utilizzati per la ricostruzione l'accordo siglato ieri di avviare subito i controlli sugli appalti di ricostruzione pubblica che ci auguriamo possa partire da qui a qualche mese spiega così Cantone il nuovo atto e lasciamo anche questa pagina della politica nazionale e comunque delle notizie nazionali presente sulla pagina sul quotidiano la città restiamo su questo quotidiano ma torniamo in provincia di Salerno in particolare parliamo del consiglio provinciale ieri a Salerno si è parlato della difesa del litorale che è stato il principale tema in discussione al consiglio provinciale vediamo il titolo certezza sui fondi poi discutiamo queste le parole del presidente Canfora la provincia è pronta a migliorare il progetto ma patto però che la regione garantisca le risorse e poi in consiglio passano i debiti fuori bilancio l'opposizione di Correal Tare il consiglio provinciale con i soli voti della maggioranza approva i debiti fuori bilancio un adempimento propedeutico al bilancio di provisione che sarà discusso poi domani i fratelli d'Italia non solo non ha partecipato al voto ma ha preannunciato un ricorso al TAR tant'è che il capogruppo consigliare Giuseppe fabbricatore ha abbandonato l'aula subito dopo aver sottolineato come il bilancio sia illegittimo perché i tempi e le procedure di convocazione dei consigli del 28 dicembre e del 30 dicembre nonché dell'assemblea dei sindaci prevista per la mattina del 30 non rispettano il regolamento di contabilità per la minoranza non sarebbero stati rispettati quindi i tempi di consegna degli atti e restiamo su questa pagina perché torniamo sulla vicenda che ha interessato 56 ex consiglieri regionali con la decisione della Corte dei Conti della Regione che ha condannato i 56 ex consiglieri per il risarcimento di un danno erariale per oltre un milione di euro alla Regione per i rimborsi delle spese si tratta di spese sostenute negli anni che vanno da 2011 e 2012 tra questi anche l'ex consigliere regionale Donato Pica che però ha preannunciato il ricorso si stanno dicendo una serie di falsità dice Donato Pica la contestazione originaria era di 60 mila euro ed è scesa ad 8 mila euro sono soldi che io ho speso per le attività di rappresentante istituzionale per le consulenze e per le spese della mia segreteria politica a San Tersegno e oltre a Donato Pica tra gli ex consiglieri regionali salernitani condannati al risarcimento anche Gennaro Mucciolo che dovrà versare 21 mila 691 euro e poi tra questi ci sono anche l'ex governatore Caldor e l'attuale presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio Lasciamo questa pagina andiamo avanti andiamo nelle pagine dedicate invece alle notizie provenienti dal Cilento dal Vallo di Diano e degli Alburni sulla pagina della città dedicata quindi a questa parte del territorio salernitano si parla di viabilità in apertura e si parla della Cilentana questa mattina è previsto il taglio del nastro dopo i lavori di rifacimento vediamo il titolo oggi riapre la Cilentana rispettati gli impegni anche De Luca sarà presente alla cerimonia sul viadotto lavori finiti in meno di 150 giorni Iannone festeggiano il loro fallimento ma resta il problema della discarica queste le parole di Iannone andiamo avanti andiamo a Vallo della Lucania centro pagina tribunale bando per 25 giovani dovranno sistemare l'archivio nuove opportunità di impiego presso il tribunale di Vallo della Lucania che ha accolto l'invito della regione Campania a presentare progetti finalizzati alla realizzazione di servizi di pubblico utilità entro il 31 dicembre di quest'anno nello specifico il presidente del tribunale Gaetano De Luca ha presentato un progetto per l'apertura di una biblioteca giuridica nel Palazzo di Giustizia e per la riorganizzazione degli archivi per poter svolgere attività è stato indetto un avviso pubblico per selezionare 25 persone e torniamo nel Vallo di Diano questa volta ieri la cerimonia dei funerali delle tre vittime scusate dell'incidente stradale verificatosi lo scorso 23 dicembre a Atena Lucana tre amici rimasti coinvolti in un incidente con un tir vediamo il titolo per la cerimonia di funebre che si è svolta ieri mattina schiacciati dal tir Atena si ferma in migliaia i funerali dei tre uomini morti in un incidente stradale sulla statale migliaia di persone ieri hanno affollato la palestra comunale per prendere parte ai funerali di Serafino Cicchetti Antonio Petrone e Tonino Schettino che hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso sulla statale 598 fondo Val d'Agri nel tratto che attraversa Atena Lucana la cerimonia funebre è stata ufficiata da Monsignor Antonio De Luca continuiamo Vallo della Lucania cessione delle quote Iele Bruno attacca i consiglieri e poi a Sala Consilina ieri mattina è stato presentato il nuovo progetto per quanto riguarda il parcheggio Easy Park arriva a Sala Consilina la sosta ora si paga con un'app e lasciamo questa pagina lasciamo le pagine del quotidiano la città andiamo sulle cronache vediamo il titolo di apertura anche in questo caso si parla dell'indagine delle inchieste che ha coinvolto i mercatini di Natale a Salerno mercatini indaga il PM Montemurro questo è il titolo mettendo in evidenza quindi da chi è partito dal titolare delle indagini dell'inchiesta l'inchiesta della provincia di Salerno potrebbe essere uno straccio di un'indagine iniziata a Torino questa mattina l'avvocato Lentini per conto di Buongiorno Italia presenta ricorso d'urgenza al TAR i vigili urbani assicurano questa mattina ci sarà lo sgombero definitivo delle casette impugnata la determina di Di Lorenzo decide il presidente del TAR caos tra gli stand venditori in ansia c'è chi è chiuso chi desiste e chi prepara ricorsi bagarre anche in consiglio andiamo avanti a Roma vittoria del TAR si potranno sparare i botti l'avvocato Feola batte la Raggi e poi morte in carcere oggi a Mattia nei funerali di Landia autopsia ci vogliono 60 giorni per sapere la verità torniamo a Roma scarcerato con 4 mesi di ritardo condannato dal CSM il magistrato Sessa sanzionato con una censura il reggente della procura di Nocera inferiore la storia in libertà dopo 120 giorni andiamo ora a centro pagina la tragedia muore per la febbre alta e allarme meningite un caso sospetto al San Leonardo di Castellammare di Stabia muore il 18enne di Agerola Sebastiano Petrucci chiuso per profilarsi il pronto soccorso la storia da Pasquale Affonzino alle mani dei Loreto su Scafati e poi Campagna Eboli picchiarono meccanico condannati i Barbetta infine a Pagani è scomparso Mimì o maoista storico esponente della sinistra questa la prima pagina di Le Cronache questi principali temi affrontati dal quotidiano ora andiamo sulle pagine che interessano il nostro territorio dove troviamo intanto la notizia relativa ai funerali che si sono svolti ieri in cerimonia congiunta dei tre amici vittime di incidente stradale verificatosi ad Atena Lucana ieri l'ultimo saluto nella palestra l'ultimo saluto ad Antonio Serafino e Tonino il rito funebre è stato ufficiato dal vescovo di Teggiano Policastro Monsignor De Luca lacrime dolore e commozione hanno salutato i tre amici vittime di un incidente e poi a Polla Soget invia cartelle di pagamento pubblicità i commercianti chiedono un incontro urgente nel mirino insegne tappeti calendari ed immagini sponsorizzate e con queste notizie termina la nostra segna stampa io vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata Grazie a tutti